Come si tratta di un progetto? La crisi del mercato delle commodities elementari è segnata in quel grafico. Negli ultimi anni i prezzi sono diventati schizofrenici, stellari e non si capisce veramente il motivo. Cosa siamo in grado di fare oggi? Se guardiamo i modelli che girano attualmente per prevedere questi tipi di crisi, nel 2010 previsioni dell'USDA davano un mercato stabile. Possiamo fare meglio di quello che abbiamo alle nostre spalle? L'idea probabilmente è sì. Come facciamo? Dobbiamo pensare esattamente from scratch e riniziare da capo. A questo punto abbiamo costruito un progetto di ricerca nazionale in cui Sissa è il leader scientifico a fianco di partner come l'Università degli Studi di Milano, l'Università di Perugia, l'Università di Bologna, finanziato dal governo italiano, che avesse come obiettivo quello di ripensare e portare le tecnologie della ricerca di base a frutto di un problema di una sfida globale. Quali sono gli obiettivi? Quattro di base. Realizzare modelli quantitativi, cioè cercare di usare questi numeri, questi dati che abbiamo per capire se riusciamo a predire qualcosa nel breve o nel lungo periodo. Capire come la nostra mente si relaziona al cibo. Le crisi alimentari tante volte non sono crisi economiche, non sono crisi nazionali, sono crisi derivanti da una reazione impulsiva delle persone verso una crisi sanitaria o economica. L'altra è definire le reti dei soggetti attivi fatte dai nostri partner e capire, fare questo brainstorming, analisi qualitativa degli scenari dei prossimi anni. Allora, la prima cosa che bisogna fare è avere i numeri. Noi siamo persone di numeri e abbiamo bisogno tipicamente di moltissimi dati. In questo ci è in realtà avvenuto un caso fortuito, è che gran parte delle governance negli ultimi vent'anni hanno fatto un lavoro spettacolare di documentazione numerica. Ci sono dati in giro per il mondo delle Nazioni Unite, della comunità europea, dei governi italiani che hanno mappato i prezzi, le produzioni, le location, ogni singolo passaggio di una commodity alimentare. Negli ultimi dieci anni è stato uno sforzo collettivo gigantesco per motivi completamente diversi, per rendicontare, per moltissimi motivi, ma sono lì. Quello che abbiamo fatto per i primi mesi era raccogliere questi dati. Sono letteralmente ovunque, Nazioni Unite, USDA, Chicago Board of Trade, database proprietario pubblici di istituzioni governative, FAO. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo costruito il primo database sincronizzato, trasversale su tutti questi dataset, che contiene più o meno tutti i dati pubblici, dei dataset pubblici e in parte privati, sulle commodities alimentari. Sono 4 terabyte di dati che caratterizzano tutte le serie storiche che possiamo pensare, dal prezzo delle banane in Burkina Faso alla produzione del riso in India nel 2008. Cosa abbiamo fatto su questo? Una cosa che facciamo per moltissimi ambiti totalmente diversi. Abbiamo provato a capire se riusciamo ad allenare degli algoritmi per predire. Che cosa vuol dire predire? Quello che avete qua è il prezzo del riso in India negli ultimi anni. La crescita differenziale dall'ultimo punto. Cosa vuol dire predire? Vuol dire cancellare dal database un pezzo, due anni, cercare di allenare i modelli su quella storia che dovrebbe essere abbastanza informativa. Ma il vantaggio che abbiamo noi è che oltre al singolo prezzo possiamo accoppiarci tantissimi dati. I volumi, i costi, i costi di altre commodities che servono per produrre il riso, tutta una serie di marcatori. I numeri sono giganteschi, quindi dobbiamo continuare a iterare per capire che cosa serve nella ricetta finale. E alla fine riusciamo ad ottenere dei buoni risultati. Questo qua è quel pezzo che avevamo eliminato all'inizio. E queste sono delle applicazioni, si chiamano reti neurali, ma sono cose abbastanza standard nel nostro settore. Queste qua sono le predizioni a breve periodo del prezzo del riso. Quattro settimane, un punto dopo l'altro. Cerchiamo di capire se riusciamo a predirle. Vanno bene, sono a breve periodo e questo non è banale, perché se vedete qua, quando chiediamo predizioni più a lungo periodo, otto settimane o sedici settimane, questi algoritmi iniziano a perdere di efficienza. Ma è una strada su cui lavorare. Quattro settimane non sono poco. Questo è un pezzo della ricerca che stiamo portando avanti, stiamo cercando di capire come aggiungere la seconda parte. Altra cosa non banale, uno dei problemi più grossi dei mercati del cibo è la free will. Cioè il fatto che voi volete, noi vogliamo avere fragole a dicembre, vogliamo avere arance a giugno. E non è una cosa così banale per il mondo portarvi delle fragole a dicembre. Si può misurare? Sì. Questa è una metrica che abbiamo sviluppato per cercare di misurare qual è il sovraccarico del mercato globale, partendo dai dati delle dogane internazionali, di quanto costa avere una banana a Trieste oggi. Quello che vedete là sono tutti i possibili percorsi che fa una banana per arrivare nella vostra tavola a Trieste. Pesate statisticamente, i rossi sono i più probabili, i gialli sono i meno probabili. Che cosa abbiamo? Abbiamo un indice di sostenibilità delle commodities per mese, quello che vedete, ovvero di quanto l'impatto del trade globale, quanto il mercato deve lavorare per voi. Cosa facciamo? Alla fine uniamo un altro database che abbiamo, che sono quelle delle ricette, e riusciamo a categorizzare le ricette locali più sostenibili in questo momento. È un'applicazione che è piaciuta molto in particolare al pubblico e per questo poi il progetto è stato uno dei progetti flagship di Expo 2015. Questa cosa diventerà pian piano un sistema di visualizzazione della sostenibilità. Tutto questo è un'analisi che facciamo, ci sono i modelli a principi primi, stiamo iniziando a ricostruire un modello di base, di interazione multicorpo con differenti tempi del mercato di produzione delle commodities. Stiamo lavorando sull'analisi delle reti, sulla scomposizione dei prezzi della produzione, stiamo lavorando sulle neuroscienze, che è una cosa estremamente affascinante. Stiamo cercando di capire qual è veramente la scala di industrializzazione, come noi percepiamo il cibo, se preferiamo il naturale o quello industriale, se lo preferiamo sotto una crisi sanitaria, cosa scegliamo, quello più naturale o quello più industriale. Queste sono alcune delle cose, Outlooks sono queste speculazioni che facciamo durante l'MCA. Alla fine facciamo anche una parte di Outreach, che è questo videogioco in merito del Media Lab, che a breve Davide vi racconterà, che raccoglie un po' tutte queste speculazioni che abbiamo fatto e questi numeri che abbiamo raccolto per il pubblico, per raccontare la storia dei foodcast. Io ho in realtà una piccolissima parte, in questo progetto fanno parte tantissimi ricercatori, il professor Sormiato, il professor Laio, il professor Marsili, con tanti postdoc, tanti dottorandi, e il mio piacere è stato coordinare in parte questa cosa e continuare a farlo. Fino al 2015 abbiamo tempo per presentare i nostri risultati ad Expo, e secondo me è un esempio di come la ricerca di base può supportare un problema molto molto importante. Dunque, io mi chiamo Davide Ludovisi, lavoro a Sissa Media Lab e tra le varie cose ci occupiamo della comunicazione esterna della Sissa. Ovviamente tutto questo discorso a cui avete assistito adesso, Riccardo Sabettini è venuto da noi e ce l'ha fatto, ovviamente ci ha affascinato moltissimo, per noi però era una sfida non banale, riuscire a comunicare una ricerca in corso, una ricerca in corso estremamente interessante. Però, insomma, i mass media, quando c'è una ricerca in corso, quando c'è poca ciccia da comunicare, difficilmente poi ti consigliano. Allora abbiamo pensato di sviluppare un'app, un test, un videogioco per supporti Apple, e nel giro di due mesi è stata la seconda applicazione più scaricata italiana nell'ambito del settore istruzione. Abbiamo avuto una copertura mediatica incredibile e attraverso questo videogioco noi ovviamente non abbiamo potuto parlare dei temi, cioè non abbiamo potuto parlare della ricerca, ma abbiamo parlato dei temi, i temi affrontati dalla ricerca. Quindi, in sostanza, il cibo ha 360 gradi. Io questo videogioco lo conosco già, se qualcuno di voi vuole salire e provarlo, è anche più semplice. Chi di voi? Siete dei politici, non potete essere... È molto facile. Dura due minuti. Sì, sì. Ok, grande. Quindi, insomma, ci sono tre livelli. Qui si inizia a giocare, qui ci sono le informazioni e qui... Ah, ma è in Italia. Ok, è ok. You can start easy, the easy level. Ok. It's really difficult, but it's a new way to understand and discover new aspects of nowadays food. You just choose the right answer. I have to understand the question, please. Well, if you understand Italian, it's easy. Ok, you can switch here. No, it's wrong. But now you understand something new. So, you should buy something, for example, here. Wrong again. But you discover that United States had the 37% of production of mice destined to abroad. Is it true that the... They suggest you... No. I trust you. Good advice. Yes. And so on. So, alla fine si può condividere il risultato su Facebook, il che fa aumentare ancora di più la conoscenza del progetto scientifico. e appunto nel giro di tre mesi abbiamo avuto oltre 3.000 download di questa applicazione, ovviamente è gratuita, e moltissimi ovviamente hanno scoperto il progetto scientifico giocando a questo gioco molto semplice, ma che evidentemente è rappresentato una novità e molto probabilmente rappresenta il primo di uno di tanti videogiochi, di tante forme con cui noi comunichiamo la scienza. ovviamente le potete scaricare gratuitamente dall'app store e cercandolo, insomma, sull'app store. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.